Siamo con Angelo Galbiatti di MediaWorld, oggi parliamo di un progetto europeo molto importante che riguarda i RAE, un tema sempre di scottante attualità. Cosa parlerete oggi? Oggi presenterò un pochettino quello che è il mondo RAE per quanto riguarda la nostra azienda MediaWorld. Tutta l'attività di servizio RAE noi l'abbiamo sempre interpretata come un'opportunità e non come un obbligo legato ad un adempimento di legge e con questo approccio e con l'entusiasmo e la curiosità di un bambino abbiamo aderito a questa sperimentazione perché a nostro avviso è sicuramente un ottimo canale per capire quello che potrebbe essere il futuro della normativa, l'uno contro zero e il futuro dei servizi al consumatore legati appunto al mondo del ritiro del RAE. Grazie allora, buon lavoro, buona giornata. L'evento andrà in diretta streaming nazionale su labelab.it quindi sono ero modo di seguire in real time tutto quello che viene discusso e trattato quest'oggi. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.